Lo show è finito, Draghi si dimette, il paese va a votare, tanti saluti perché praticamente adesso bisogna vedere il numero legale, l'ultima formalità, lui si è formato a Palazzo Chigi e poi salirà al Quirinale a rassegnare le dimissioni nelle mani del capo dello Stato che voi vi illudete, vediamo cosa farà, comunque leggendo anche le dichiarazioni di Letta su Twitter pare che la strada sia segnata. Andate a votare, divertitevi, comunque io l'avevo già previsto tutto, io l'avevo detto già quando era uscito Di Maio, se te ti vai a rivedere il mio video io avevo già detto che credeva al governo, i 5 Stelle non potevano stare più lì con un Conte indebolito, adesso non era scontato che si astenessero, forse era la speranza di Draghi, poter insieme una maggioranza raccoglitizia. Però voglio dire, ti aveva andato la fiducia, te ne sei andato, stavi lì con la fiducia, se vuoi un'altra maggioranza di un altro colore politico, però lui poteva dire, ho fatto la verifica, capito? Però ovviamente anche i 5 Stelle adesso vogliono le urne, vogliono la verifica elettorale, una bella maratona. Grazie! Grazie! Grazie!